Kate Middleton. La bellissima notizia di pochi minuti fa. La principessa è. Tutti emozionati. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. La notizia di pochi minuti fa arriva direttamente da Kensington Palace. Dove, attraverso una nota ufficiale, viene annunciato che la principessa del Galles, Kate Middleton, è stata dimessa dalla clinica dopo un intervento chirurgico all'addome, rassicurando così il pubblico sulle sue condizioni di salute. Dopo 13 giorni di degenza, Kate ha fatto progressi sufficienti per essere autorizzata a lasciare l'istituto ospedaliero e fare ritorno a Windsor, alla dell'Aide Cottage, dove risiede con il principe William e i loro tre figli. L'annuncio ha portato sollievo a livello internazionale, considerando la preoccupazione diffusa riguardo alla salute dei membri della famiglia reale britannica, con il re Carlo III recentemente sottoposto a un intervento alla prostata. Sebbene molte speculazioni abbiano circolato riguardo alle condizioni di salute di Kate, il mondo reale è noto per mantenere il segreto su tali questioni. La principessa, nonostante la dimissione, non riprenderà immediatamente le sue normali attività. Come precedentemente annunciato, rimarrà a riposo fino a dopo Pasqua, continuando a lavorare tramite videochiamate quando possibile, con l'approvazione del suo staff medico. Kensington Palace ha sottolineato che i futuri impegni di Kate saranno valutati caso per caso dallo staff medico. La nota ufficiale ha anche espresso gratitudine nei confronti del personale della London Clinic, sottolineando la qualità del servizio fornito durante la convalescenza della principessa. Il principe William, futuro erede al trono, ha annullato i suoi impegni ufficiali per prendersi cura dei loro figli, George, Charlotte e Louis. Fonti ufficiali affermano che William manterrà questa decisione finché le condizioni di Kate non saranno stabilizzate e migliorate. La famiglia di Kate, compresi i genitori Carol e Michael, insieme ai fratelli Pippa e James, offre il suo completo supporto durante questo periodo delicato. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.